il giovedì santo è il giorno dell'ultima cena di gesù con i suoi apostoli quando cioè gesù istituisce l'eucarestia e il sacramento del sacerdozio e diede l'esempio dello stile attraverso il gesto della lavanda dei piedi ascoltiamo il vangelo dal vangelo secondo giovanni prima della festa di pasqua gesù sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine durante la cena quando il diavolo aveva già messo in cuore a giuda figlio di simone iscariota di tradirlo gesù sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da dio e a dio ritornava si alzò da tavola depose le vesti prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto venne dunque da simon pietro e questi gli disse signore tu lavi i piedi a me rispose gesù quello che io faccio tu ora non lo capisci lo capirai dopo gli disse pietro tu non mi laverai i piedi in eterno gli rispose gesù se non ti laverò non avrai parte con me gli disse simon pietro signore non solo i miei piedi ma anche le mani e il capo soggiunse gesù chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro e voi siete puri ma non tutti sapeva infatti chi lo tradiva per questo disse non tutti siete puri quando ebbe lavato loro i piedi riprese le sue vesti sedette di nuovo e disse loro capite quello che ho fatto per voi voi mi chiamate il maestro e il signore e dite bene perché lo sono se dunque io il signore e il maestro ho lavato i piedi a voi anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri vi ho dato infatti l'esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi gesù trascorre le ultime ore della sua vita in compagnia dei suoi discepoli siamo nel cenacolo il clima è quello dell'intimità una intimità dolce insieme drammatica dice il vangelo anche gesù avendo amato i suoi li amò sino alla fine potremmo intendere alla fine in due modi alla fine nel senso fino in fondo cioè senza riserve senza limiti ma anche alla fine nel senso di fine di finalità e cioè lo scopo per cui gesù si è incarnato questo è il momento in cui viene dispiegata l'essenza dell'incarnazione di gesù quest'anno celebriamo il giovedì santo non in chiesa ma nella intimità delle nostre famiglie nelle nostre case piccole chiese domestiche forse sarà ancora più bello rivivere il mandato di gesù fate questo in mia memoria nello stesso clima di intimità del cenacolo in tutta la sua vita gesù ha annunciato il comandamento principale del vangelo che è l'amore a questo punto volendo riassumere tutta la sua vita ha compiuto un unico grande gesto che ha avuto due riverberi il riverbero liturgico dell'eucarestia con il segno del pane e del vino e il riverbero della vita caritativa del servizio due riverberi che nascono dallo stesso gesto nel cenacolo prima di morire due facce della stessa medaglia che noi possiamo comprendere reciprocamente non possiamo comprendere l'eucarestia se non alla luce del servizio e d'altra parte non possiamo comprendere il senso del servizio se non alla luce dell'eucarestia normalmente il parroco il giovedì santo lava i piedi ai genitori ai papà dei bambini che ricevono la prima comunione quest'anno non possiamo farlo ma sarà un'occasione altrettanto propizia lavare i piedi reciprocamente nella famiglia i genitori e i figli i figli e i genitori trasformando la nostra casa in un vero e proprio cenacolo vorrei concludere questo pensiero di meditazione con una preghiera speciale che rivolgo al signore per i nostri ragazzi e per i nostri giovani perché si possano magari anche con il nostro esempio innamorare dell'eucarestia la possano comprendere amare e celebrare e imparino a coniugare i verbi eucaristici dell'ascolto della comunione e del servizio nella loro vita questo giovedì santo sia per tutti noi come ricevere una dolce carezza da parte di dio che nell'eucarestia ci consola nella nostra solitudine ed esolazione signore ci dia la forza buon giovedì santo e buon triduo pasquale a tutti voi buon triduo pasquale a tutti voi buon triduo pasquale a tutti voi